Oggi un video brevissimo solo per farvi vedere il tunnel SSH perché secondo me è molto interessante, spero che vi piaccia Quante volte vi sarà capitato di dovervi collegare a un dispositivo su una rete remota, che può essere un vostro cliente o chiunque altro e dovete quindi telefonare e richiedere un accesso in teleassistenza Magari dovete semplicemente controllare un NAS o dovete verificare lo stato di un server o qualsiasi cosa dovete fare direttamente da un'interfaccia web Avete quindi due modi per farlo, crearvi una VPN oppure farvi collegare su un PC in locale Se avete un server Linux in quella rete o utilizzate un firewall, anch'esso Linux in quella rete e avete quindi accesso a SSH uno di questi due dispositivi, potete benissimo creare un tunnel SSH e per l'appunto andare a sfogliare la rete da web in maniera molto semplice, vi faccio vedere come Quindi da un nostro client preferito SSH, io uso Putty perché a me piace personalmente Putty andiamo a collegarci a un server remoto a cui ovviamente abbiamo accesso in SSH Una volta digitato l'indirizzo IP pubblico, il DNS o quello che volete del server remoto scorrete l'elenco di Putty fino a SSH e poi andate a cliccare su Tunnels Clicchiamo qua e andiamo a specificare una porta di origine tipo 1024 Andiamo a selezionare Dynamic come destination e clicchiamo su Add A questo punto lui trasferirà tutto il traffico web tramite questa porta utilizzando il collegamento in SSH, ma vediamolo nel pratico Clicchiamo Open, andiamo a effettuare quindi il login al nostro server remoto Una volta effettuato il login il nostro tunnel è già attivo Come facciamo ad utilizzarlo? La cosa più semplice è farlo tramite un browser Per esempio prendiamo Firefox Se vado nelle impostazioni di Firefox Vado a cercare Proxy Si apriranno impostazioni di rete Clicchiamo Impostazioni Andiamo a specificare configurazione manuale del proxy Su host SOX andiamo a scrivere localhost E sulla porta, la porta che abbiamo scritto in precedenza su Putty Facciamo ok Cosa succede? Da questo momento noi è come se stessimo utilizzando questo browser Direttamente nel nostro server Linux, Firewall Linux Dispositivo Linux dall'altra parte a cui ci siamo collegati in SSH Quindi se io vado a scrivere qui un indirizzo locale Lui mi aprirà un indirizzo locale della sede remota Vado a digitare per esempio un indirizzo IP privato Come vedete riesco tranquillamente a sfogliare la rete Esattamente come se fossi in quella rete Vedete che sono quindi su un'altra classe? Io giusto per farvi capire sono su un'altra classe di rete Vi faccio vedere Vedete? Quindi posso tranquillamente sfogliare la rete remota Senza bisogno di collegarmi in terminal server In VPN In teleassistenza E' un modo molto pratico E vi consiglio di provare a utilizzarlo Se il video ti è piaciuto metti un mi piace Iscriviti al canale Ci vediamo alla prossima Grazie